E questa è la build che andrò a utilizzare in questo game di Pyke, i miei nemici saranno super facili da uccidere e sicuramente mi andrò a fidare. E la stessa identica che uso in jungle, e vedete qui, proprio standard, electroshock, impatto improvviso, secondo fiato, cacciatore genio. L'oggetto della zanna del serpente a volte lo vado a fare come secondo oggetto se ci sono scudi nemici, altrimenti lo tengo come terzo. E ora vi lascio al game, bella di padella. Quanto vorrei che ci fosse l'allshot solo per dirgli no damage, eh? Ho trovato il doppio dei danni tua. Che palle. Ah, che palle, non fai, ta. Giustamente in realtà, eh. Però se la tengo pushata è positivo. Oh, aspetta, ragazzi, siamo a 5 sub, allora non era quella di... Oddio. Che meme. Che meme l'attack speed che non ha funzionato. Jumpaio love, jumpaio love, jumpaio love, jumpaio love. Ciao Rick! Grazie mille per la sub col Prime. Una jumpy scoteca, uno spawn di cuoricini. Let's dance. Eh, amica mia. Eh, amica mia. Vai, vai, vai. Uia! Devo far 5, Lilia. Devo far 5, Lilia! Oh, cazzo. Oh, ma che sfiga! Oddio l'ucine! No, perché muore di triumph. Peccato. Fa un culo. Guarda che ho sprecato tempo per scrivere. Ho sprecato tempo per scrivere, raga. Sono un coglione. Ho letteralmente dato una free kill perché stavo scrivendo. Ciao Claude, buonasera. Beh, grazie mille Rick per il dodicesimo mese. Un anno. Let's go. Che sfiga per la Suprema prima. Non sono appena arrivato. Ciao Akira. Ah, manca mid. Eh. Eccoci qua. Sta arrivando l'hype train. E che sta succede qua? Oh! Bella Karma! Arriva, 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 arriva. Ecco qua. Ah, vabbè. Bello che gliel'ha pingato, eh. Immagina ascoltare i ping quando vengono fatti. Cioè, capite perché? Perché mi stanno sul cazzo le Catarina? Grazie mille Karma per la Sub Call Prime. Una Jumpy Scoteca, uno spam di cuoricini. E let's dance! Perfetto. Scontatissima, proprio. Ok. Ciao! Ciao, grazie mille Karma per la Sub Call Prime. Mi manca comunque una Sub di qualcuno che l'ha fatta e non si è vista. Grazie mille. Raga, vi prego. Un'anima Pia mi ricorda di cambiare la build di Pyke. Che mi dà quel cazzo di Attack Speed e mi fa tiltare. Grazie mille ancora Rick per il dodicesimo mese. Grazie che... I Prime del destino. Dopo il game? Sì, sì, sì. Subito. Anche se non gioco mid. Perché... Mi fa tiltare che mi dà l'Attack Speed. Arrivo. Perfetto. Ci siamo. Oh! Bella gourmet! Grazie mille per la Sub Call Prime per l'ottavo mese. Almeno, vedi, hai attivato l'Hip Train. In... Hi-Potorano! Ah! Oh merda! Ah! Vabbè, sono stato impelicchiato. Grazie mille. Grazie mille per la... Aspetta, ci sono... Ok, 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 ok. Quindi, ne approfitto, visto che c'è l'Hip Train attivo, per rompervi le balle al bomodoro. Se avete la Sub Call Prime, potete farla in maniera gratuita. Intanto, questi non so come hanno fatto a non uccidere una Katarina con un dodecaesimo di vita. Sì, come se io giocassi 800.000 game di Pyke, Joe. Well, that's the money. Yes, that's me. That's me farming the money! Joe, lo senti? Lo senti, Joe? Il suono delle mie... Oh, God! Grande. Grazie, Gourmet, per l'ottavo mese! Urprime. Due ulti. Ho due K7. Yes, baby! Si va a Smurferi. È un anno? Oddio... Oddio, ho visto otto mesi io. Per quello, sorry. Io, cioè, mi ricordavo più tempo, però a volte, sai, non sono bravo col tempo. Beh, grazie mille comunque per la Sub Call Prime e per l'eventuale dodicesimo mese, allora. Che se tu ci scappa, è l'insomma. Vabbè, questa dorme... Ciao, sono appena arrivato! Sto arrivando! Peccato. Vabbè, la dovrebbero uccidere, in teoria. Perfetto! Luca dei money, Luca dei cash! Ok, posso smutare tutti. Oh, bella Lilia! Vai che Lilia a scale basta tanto ormai. No! Vabbè, vai che ti uccide pure quella. Tanto non hanno capito che fanno il gioco di Lilia se continuano così. Iiii! E invece muoiono. Oddio, la Q doveva fa... Peccato. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ok. Paura. Parca loga. Ma che cosa hanno fatto? Finita la R. C'è questo, dai. Ma però prendi... No, il blu... Il... Drake. Oh. Oh, 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 oh boy! Sì Sì Bel champ pike Sì sì, vero I've got the money I've got the money I've got the money Bro ma che cazzo vuoi? Sei Camille Sto a 14-3 Con 13k gold Devo lasciare il blu a Camille O con 8k gold Io boh vabbè Oh mio dio Sono rimasto a mezzo HP Ma c'è più bike Complimenti Riot Bro ma che cazzo fai? Ti prego Come vediamo My time to shine Ve l'ho detto che sto game sarebbe stato più facile ultare perché erano tutti squishy a parte set Avevo 5k gold Va bene Grazie Bene Ok Ok Oddio Oddio Tutto bene Io volevo prendere la zonia E non ho ancora l'item delle scarpe eh Ho già l'ultimate Si Sto aspettando la nuova ultimate No Buono Ma che vinciamo GG Sono arrivato troppo in ritardo No assolutamente no Starlord non lo faccio mai troppo presto Perché altrimenti le persone non fanno in tempo C'è gente che lavora Un sacco di cazzi Pyke non sta performando come vorremmo Diamogli un buff 100% dei Pyke Nello stesso livello Questo screenshot me lo tengo Può far comodo Oddio Aspetta Quella S è meglio Può far comodo Sì 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 Sì